salve ragazzi oggi vi mostro un'applicazione che è una fregatura totale e di merda in più vi dico il perchè guardate quanto fortunatamente costa un'applicazione ho capito che sono ricco ma 350 euro manco sul caso di credito io non ce l'avrei io l'ho salvata fortunatamente non ha creato google perchè la google play non ha creato una cosa quindi ho salvato solo la lista dei desideri l'applicazione e costa 350 euro ma capite quando fottutamente cacchio costa una fottuta applicazione di merda ma io dico così perchè beh si ma off io lo so c'è ma che cacchio io con 350 euro io mi comprirei un casino di robux all'incontrario c'è I'm poor e guardate cosa fa aspettate che l'installo faccio l'applicazione costava una volta 1 euro 19 ma stranamente è gratis però per un po' è gratis vediamo cos'è e che fa allora fa questa merda quindi pensate alla gemma come fa c'è io vado a spendere 150 euro per una schifezza di applicazione e merda ma che il mio lollipops infatti i dispositivi aggiornati con lollipops hanno vabbè ma che schifezza ma io vado a comprare una cosa che costa 350 euro su google play c'è ma io mi andressi cosa era da fare proprio un miliardo di robux su roblox cioè uno sarebbe un ricchissimo per ogni fottutissima cosa ma 350 euro per una merda di applicazione 300 euro per una fottutissima gemma come si chiacchi quel pulsante ma manco molto ma non è che schife ma che cazzo ma ho fatto un po' allora con il tuo studio ho fottutamente comunque se vi è piaciuto questo video ma perché dico anche comunque lasciate dei like, dei miei piaci iscrivetemi al mio canale ciao 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 ciao